Buonasera a tutti, da Antonio Laino andiamo subito al suodo, discusso, 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 episodio in Juventus Salernitana. Al 94esimo viene annullata una rete a Milik che di testa insacca il gol del 3-2, poi successivamente viene espulso per essersi tolto la maglia, quindi doppio giallo. Ma andiamo per grade, andiamo subito a vedere l'episodio. Vi leggo subito quello che ho scritto sul mio profilo Instagram OfficeVar, mettete un segui, iscrivetevi anche al canale qui per vedere tutti gli episodi arbitrali in maniera neutrale. Io sinceramente non ci ho capito molto, però andiamo a cercare di ricostruire. Io ho scritto sul colpo di testa dell'eventino Bonucci, è in posizione geografica di fuorigioco Bonucci, devo aggiustare perché l'ho scritto velocemente. L'arbitro Alvar annulla perché Bonucci è in posizione geografica di fuorigioco, ora andiamo a vedere anche l'immagine della posizione geografica di fuorigioco, ma scrivo che secondo me la posizione è ininfluente perché non occupa la visita dal portiere, anche se tenta di giocare il pallone, comunque la parola non cambia traiettoria. L'unica spiegazione possibile, scrivo qui nel post, è che l'arbitro possa aver giudicato il contatto tra Bonucci e il difensore, che si vede qui dietro quest'altro difensore della Sernitana, possa aver giudicato quel contatto un possibile tentativo di giocare il pallone e quindi un'interferenza con l'azione, quindi non facendo, non dando la possibilità al difensore della Sernitana di giocare la palla. Ora io non ho detto che è così, sto cercando di ricostruire un po', infatti sinceramente non riesco a giudicarla. Marelli da zona ha detto che per lui non è un gol da annullare perché non è influente e sono d'accordo, sono d'accordo perché Bonucci comunque è in posizione geografica di fuorigioco, lo vediamo qui, Bonucci è in posizione geografica di fuorigioco con la gamba oltre il tallone del difensore. Proprio quel difensore che noi vediamo di poco, Bonucci ha anche la maglia tirata, quindi secondo me l'unica spiegazione possibile è che abbia avuto contatto con questo difensore, che non ha potuto giocare il pallone. Questa secondo me potrebbe essere l'unica spiegazione plausibile del perché il fuorigioco di Bonucci è influente. Secondo me la posizione è solo geografica di fuorigioco e quindi è in influente. Probabilmente l'arbitro l'ha pensata così. Andiamo a vedere un attimo cosa dice il regolamento sul fuorigioco. Interferendo con un avversario impedendo di essere in grado di giocare il pallone o struendogli chiaramente nella divisione o contendendogli il pallone o tentando chiaramente di giocare il pallone che è vicino quando questa azione impatta sull'avversario o facendo un'evidente azione che chiaramente impatta sulla capacità dell'avversario di giocare il pallone oppure sotto, prendendo vantaggio, interferendo con l'avversario, giocando il pallone quando è rimbalzato, non ci interessa. Noi vediamo la prima a parte, quindi dove c'è scritto 2 in fazione di fuorigioco, la regola 11. L'unica cosa che l'arbitro possa aver visto è tentando chiaramente di giocare il pallone che è vicino quando questa azione impatta sull'avversario o facendo un'evidente azione che chiaramente impatta sulla capacità dell'avversario di giocare il pallone. Questa ho detto che potrebbe essere l'unica spiegazione plausibile. Andando a rivedere un attimo da questa angolazione che è l'immagine che noi abbiamo visto in televisione del VAR vediamo Bonucci con la maglia che è un po' tirata quindi posso pensare, però sempre, non sto dicendo che è gol buono o non è gol buono sto dicendo soltanto che l'arbitro può aver pensato, potrebbe aver visto che quel contatto possa aver interferito con l'azione visto che Bonucci ha tentato di giocare il pallone in posizione geografica di fuorigioco contendendo il pallone al difensore. L'espulsione di Milik Milik ha fatto il gol e si è tolto la maglia quindi l'espulsione, anche se il gol è stato annullato l'espulsione, il cartellino giallo rimane quindi l'espulsione rimane, non può essere cancellata perché comunque in alcun modo un calciatore non può togliersi la maglia anche quando fa un gol dici sì, però se non aveva fatto il gol non se la toglieva nessuno ha detto di togliersi la maglia quindi lì il cartellino giallo e quindi l'espulsione che rimane è giusta non si può annullare quel provvedimento qui invece sul gol abbiamo molti dubbi ho scritto non riesco a giudicarla perché sinceramente è molto, 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 molto borderline il regolamento ha delle linee guida avete visto il regolamento cosa c'è scritto gli arbitri secondo me quest'anno e come l'anno scorso sono è una delle classi arbitrali più scarse degli ultimi 30 anni se non la più scarsa ogni arbitro adotta il proprio criterio di valutazione perché alcune volte il regolamento è di interpretazione quindi in questo caso l'arbitro l'ha interpretato in questa maniera secondo me ci dovrebbero essere le regole più chiare perché altrimenti ogni domenica ogni domenica ne avremmo di tante a Lecce c'erano due rigori oggi clamorosi che sono stati fiscati a Lecce e il gol del dono del Bologna era un chiaro fallo dal quale poi parte l'azione per il gol altri tre errori gravissimi altri tre errori gravissimi e quindi qui iniziamo iniziamo un po' ad avere dei dubbi su questa azione qui alla mia sinistra dello schermo l'unica spiegazione può essere questa qua quindi io non riesco a esprimere un parere positivo, negativo al fischio dell'arbitro ho scritto sul post rimpicciolisco di nuovo la web uno mi ha scritto addirittura ecco un altro arbitro interista no io non ho scritto niente ho scritto soltanto che sinceramente non riesco a giudicarla perché la posizione è ininfluente secondo me è ininfluente poi se l'arbitro ha detto ripeto che è interferito con il difensore che deve giocare il pallone è un altro conto io non lo so nella testa dell'arbitro cosa è scaturito geograficamente non interferisce per me non interferisce poi ripeto c'è il contatto magari l'arbitro ha detto ha giocato il pallone tentando di giocare il pallone fuori gioco lo annulliamo non lo so non saprei non saprei che dire alzo le mani stavolta di solito do sempre decisione corretta o decisione sbagliata a cui questa volta devo alzare le mani voi cosa ne pensate lascio i commenti attivi se vedrete questo video senza litigare senza litigare senza parolacce giudichiamo il proprio punto di vista senza dire ma giuventini interiusto ladri complotto no secondo voi è gol o non è gol sì o no ciao da Tonelaino iscrivetevi al canale grazie a tutti